Nei giorni scorsi i finanzieri della compagnia di fondi hanno portato a termine l'operazione Free Trade, che ha riguardato quattro società che operano tra le province di Roma e Latina, sospettate di aver partecipato ad una sofisticata frode fiscale nel settore del commercio di carni provenienti da paesi dell'Unione Europea, che se portata a compimento avrebbe portato ad occultare al fisco più di 40 milioni di euro di reddito imponibile e circa 9 milioni di euro di imposta sul valore aggiunto. L'attività che ha preso le mosse dall'esame di alcune sospette movimentazioni di denaro sui conti correnti di un imprenditore fondano ha permesso di individuare tre società tra loro collegate che, sebbene risultavano operative attive nell'importazione di carni da paesi dell'Unione Europea, erano prive di qualsivoglia struttura operativa e completamente sconosciute al fisco. Le investigazioni e gli approfondimenti hanno permesso di raccogliere importanti elementi per qualificare, secondo l'ipotesi investigativa, le tre società sopra richiamate, due delle quali riconducibili all'imprenditore di fondi, come mere imprese filtro, ossia schermi societari creati apposta per interporsi fittiziamente tra i fornitori comunicari ed una quarta società coinvolta nella frode utilizzate per il commercio delle carni acquistate. Il meccanismo fraudolento per effetto dell'IVA non pagata al fisco avrebbe permesso alle aziende coinvolte, con sedi a fondi, ostia ed a riccia, di acquistare le carni a prezzi sensibilmente inferiori a quelli correnti per poi rivenderle a prezzi più bassi rispetto alla concorrenza, alterando le regole di mercato e allo stesso tempo realizzando, comunque, un significativo margine di guadagno nell'arco di pochi anni. All'esito delle investigazioni sono state denunciate all'autorità giudiziaria cinque persone, i legali rappresentanti delle società coinvolte ed un professionista, per i reati tributari di emissioni di fatture false, omessa dichiarazione, occultamento e distruzione della contabilità e omesso versamento dell'IVA. Nei confronti dei cinque soggetti, su richiesta della Procura della Repubblica di Velletri, è stato disposto il sequestro di beni e di disponibilità finanziarie fino alla concorrenza di oltre 15 milioni di euro.